Edizioni Magister anche quest'anno presente al Salone del Libro di Torino. Ai nostri microfoni l'editore Timoteo Papapietro ci presenta le peculiarità di questo imperdibile appuntamento editoriale internazionale. È un'opportunità per rendere l'editoria lucana una realtà sempre più nazionale ma anche internazionale visto che ci troviamo di fronte al Salone Internazionale del Libro. Un'opportunità è una vetrina che dà possibilità a tutti i lettori di accedere a testi di non facile ripribilità all'interno delle librerie perché il problema della distribuzione è soprattutto legato ai grossi editori. L'editore fa anche un accenno al tema che quest'anno ha ispirato il Salone del Libro. In ogni caso quest'anno la vita immaginaria produce qualche cosa in più rispetto a quello che ogni anno perché possiamo immaginare anche per l'editoria lucana un aspetto di lettura più consapevole di quella che è la grandezza della Basilicata. Papa Pietro ci illustra infine il libro che è stato presentato alla Sala Basilicata sabato 11 maggio dal titolo Antonio Brucioli traduttore della Bibbia. Oggi abbiamo presentato il libro Antonio Brucioli traduttore della Bibbia scritto da Sergio Paolo Ronchi che era presente qui appunto alla presentazione insieme a Maria Bonafede e a Paola Screllenbaum. Abbiamo avuto anche la partecipazione di un lucano d'eccellenza qual è Antonio Petrocelli. Questo libro di Antonio Brucioli è stato anche corredato all'interno dello stand della Sala Basilicata anche con la presenza della Bibbia di Gutenberg. Un facsimile in cui ce ne sono sette in tutto il mondo di questa coppia preziosa che è stata qui presente nello stand su carta fatta a mano è un'opera veramente particolare. In ogni caso Brucioli ha tradotto per primo la Bibbia in lingua italiana nel 1532 facendo sì che la Bibbia potesse arrivare nelle mani di tutti che invece prima era a vantaggio esclusivamente di chi conosceva l'ebraico e il greco. Quindi è stata una grossa rivoluzione che è di letteratura e in ogni caso per il salone del libro è un dato importante perché la Bibbia a tutt'oggi rappresenta ancora il best seller in assoluto più venduto nel mondo.